Un sequestro di beni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri della Guardia di Finanza di Reggio Calabria nei confronti di un imprenditore. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Reggino, è stato eseguito con il supporto dello SCICO e dei comandi provinciali di Ancona e Pesaro Urbino, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Il contesto investigativo è quello dell'operazione EIFEMOS, già condotta dalla squadra mobile della Questura di Reggio Calabria ed il sequestro è frutto della collaborazione tra forze di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata sotto il coordinamento della locale procura. L'indagine è stata eseguita nei confronti di un soggetto originario della provincia regina con interessi imprenditoriali nel settore dell'edilizia, la cui figura criminale era emersa nell'operazione EIFEMOS che ha consentito di disvelare l'articolazione e l'operatività del locale d'Indrangheta di Sant'Eufemia da Spromonte, dotato di margini di autonomia rispetto alla cosca di riferimento, quella degli Alvaro, al cui interno il predetto avrebbe rivestito un ruolo di vertice. È stato sequestrato l'intero compegno aziendale, costituito da una ditta individuale e due società operanti nel settore edile, dieci immobili, di cui tre terreni e sette fabbricati, ubicati nelle province di Reggio Calabria, Ancona e Pesaro Urbino, oltre a rapporti bancari, finanziari, assicurativi e relative disponibilità per un valore stimato in circa 5 milioni di euro.